questo sarà un 25 aprile particolare perché saremo tutti a casa continueremo questa questa lotta silenziosa contro il virus facendo il nostro dovere da cittadini e rimanendo a casa per un 25 aprile anche importante perché l'anniversario della liberazione ci deve far riflettere che c'è stata bisogno di una liberazione perché se sono vissuti momenti di crisi che hanno portato una dittatura e questi momenti di grandissima crisi che vive italia al mondo il pericolo di una dittatura c'è c'è sempre ma nei momenti di crisi c'è ancora di più quindi sono questi momenti che dobbiamo fare un contributo per uscire della crisi passando dalla democrazia passando della solidarietà il fascismo ha fatto proseliti in suo momento con un slogan trasformando la rabbia in odio ecco noi dobbiamo fare un slogan che trasformiamo la paura in solidarietà trasformiamo la paura e la rabbia in democrazia in partecipazione e pensare agli ultimi pensare a tutti e non pensare solo i più forti il 25 aprile ci deve far riflettere questo momento ci deve far riflettere ma soprattutto ci deve far agire se oggi è il modo di agire stando in casa domani quando cominceremo uscire nel mondo il modo di di agire sarà partecipando alla ricostruzione di tutto quello che è andato in crisi che è stato distrutto con l'idea di che la via più facile che è l'uomo forte che è la non democrazia che è la l'applicazione della forza è quello che ci ha portato al disastro per cui c'è stato bisogno di una liberazione buon 25 aprile a tutti